Che cos'è la libertà? La libertà di fare quello che vogliamo. La libertà di sceglierci un lavoro, una donna. Di andare dove si vuole. Di fare l'amore con chi e come ci pare. E cosa ne facciamo di tutte queste libertà? Le usiamo per esprimere noi stessi. Per fare quello che ci piace. Abbiamo tutte le libertà di questo mondo. Anche di lanciare bombe in nome della democrazia. E pensiamo che dove c'è scelta c'è libertà. Anche lo psicologo vi inciterà a seguire e soddisfare i vostri piaceri. Ma se siamo veramente consapevoli, sappiamo che non ci sono scelte. La consapevolezza è azione. Solo dove ci sono dubbi, incertezze, che si inizia a scegliere. Le scelte quindi prevengono la libertà. Allora dove cerco la libertà? All'esterno o dentro di me? Se ho un motivo per amare qualcuno, è questo vero amore? Se mi sento legato perché mi fa uscire dalla solitudine e sentire potente, è questo amore? Ogni attività egocentrica non è amore. Se l'indagine è profonda, si trova una qualità e intensità di enorme bellezza, da cui nasce la compassione. Allora dove cerco la libertà? 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 Grazie a tutti.